Oh no, ragà, ragà, c'è qualcuno di là, sulla destra, c'è qualcuno sulla destra, che cazzo? Vabbè, signori, qua siamo, siamo giapponesi. Ma ragà, ma sono morta, ma non ho fatto niente, ma non ho detto niente, ma ragà, ma partiamo malissimo. Allora, salve, benvenuti al campeggio. Oh, ma che è questo col braccio alzato? Ma è vivo o morto? No, vabbè, palesemente è morta. Umaro, 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 si sta alzando. Ma non ho detto niente, ma non ho detto niente. Abbassa la voce, cioè devo parlare veramente così, ragà. Ma che è questa, è una sedia? Che schifo di sedia è questa? Sono morta appena sedia? Ehià, però, ma com'è che sono morta appena sedia? Ma devo proprio parlare a bassa voce, ho messo la sensibilità a uno, ragà! A uno! Ma come ho respirato? Posso respirare? Ragà, vado intorno al carrello della spesa. Ho molta paura nel pavimento. No! C'è una signora che urla, ma a noi non ce ne frega una ceppa che la signora urla. Ce ne frega proprio un cazzo la signora che urla. Urla quanto vuoi, non mi servono. Eh, no zoo! 12 minuti, ragà, 12 minuti. Io guardo a terra, me ne fotte un cazzo, guarda a terra. E perché è tutto nero? C'è un mostro che mi sta ruttando in faccia. Ecco la zucca, la zucca, la zucca, la zucca, la zucca. La zucca può essere la nostra salvezza. Ma scusate, che è successo qua? Aspetta, aspetta. Pavimento, pavimento, pavimento. Cos'è qua? È tutto rosso. C'era questo sangue prima, no? Vi giuro che se vinco questo ranno così, godo, e dopo ne facciamo una dove vanno in esplorazione. Ciao. Raga, ho visto delle cosce. Ma voi mi sentite bene in tutto ciò? Tua sorella. Sto cercando di parlare quanto più bassa voce possibile. Porco spino. Zucca, zucca, zucca. Happy fucking birthday! Zitti, non fate gli stronzi, mancano soltanto tre minuti e mezzo. Ragazzi, vi giuro, questa è la perfect run. C'è incredibile. Voglio troppo vincerla così. Non posso neanche respirare nel microfono. Non posso neanche respirare nel microfono. Ma ragazzi, ultimi venti secondi. Kiros è impazzito. Raga, raga. Però siete dei bastardi, eh. Però siete dei bastardi a mettere questo. Ma? Che è successo? È giorno? Ho vinto? Ho vinto? Ho vinto così? Vabbè, raga. Il segreto per gli orrori è camminare nel giardino. Wow. Quindi mi posso parlare anche normalmente? Oddio, saltissimo. È stato bello. È stata una bella prova. Ora effettivamente si esplora la casa. Ma tu ste! Ho fatto... Dai, però, ho fatto... Dai, mi stavo schiarendo la voce perché parla così a bassa la voce. Non ce la faccio. No, e dai. Non ho tussi. Raga? Ma il tempo non scende? Ma è che il tempo è fermo a 18? No, raga. No, raga. Si è buggato il timer. Voglio morì. Voglio morì. Questo simboleggia... Ma che è? Ma questo è il rumore delle patatine quando scrocchiano nella bocca. Letteralmente. Quindi è un gigante che sta mangiando patatine. Sì, perché siamo fortunati. Mi canso, era quel coso? Allora, di solito quando uno ha paura e si trova nella foresta, il metodo migliore è cantare. Non urlare, però, signora. Cantare. Del tipo We wish you a merry Christmas Riprendiamo. We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas And happy new year Funziona, però. Il cagnolino. Gesù, ma avevano gli uccelli. Oh no, ragazzi, ragazzi, c'è qualcuno di là. Sulla destra. C'è qualcuno sulla destra. Cazzo. Compaiono. Ah, ma sono tornate indietro. Ok. Muggio su. Autocontro. Muggio santo. Ma sono tornata due volte alla barca? A fiume. Na 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 na. Che piazza? Tu sei una stronza. Tu sei una stronza. Non me l'aspettavo. Perché di solito li vedevo sempre lontani, questi cosi. Oh, questi sono stati due jumpscare uno dietro l'altro. Dio santo, è vero. Non ha la testa. No, raga, non ha la testa. Brutto. Ma, raga, mi stanno bombardando di jumpscare. Aiuto. Mi sto camminando sempre dritto. Perché onestamente non so dove devo andare. No, raga, non abbiamo trovato una villa. Ma vi ho trovato un'intera città. Che è sta roba? Andiamo indietro. La foresta è così carina del resto, no? Cioè, ci piace di più. Non è per niente invitante qua dentro. Ma ci sono morti. Ma ci sono i salami appesi. Ma che schifo è, raga? Ma ci sono gli uomini appesi qua dentro. Come siete pazzi? Io non entro. Questi mi appennono. Mi denudano e mi appennono. Ma qua sono morta. Oh, proviamo ad entrare. Sono le bottiglie fuori. Si può entrare, secondo voi? No, non ci fa entrare. La possiamo esplorare da fuori, però. Oh, mi sta venendo un dubbio. E se anche la villa non era esplorabile? Non penso. Secondo me... Secondo me nella villa ci faceva entrare. Tu mi li un po' felice tu stai. La prima villa di tutti le... E tu... Non, 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 non. Non la coppina qua. Se ci comportiamo bene e se non succede niente di che possiamo cavarcela con l'ultima... Oddio, carrella della spesa jumpscare. Guarda che io me ne vado. Non scherziamo. Ma che cazzo è? Raga, c'era una persona. L'ho vista. Raga, parte il candavo. Abbiamo finito. Abbiamo finito. Vabbè, dai. L'ho superata. Ma dai. Ma dai, l'ho superata. È 0000. Ma no, raga, mi gioca a parlare con la voce così si è abbassata la voce. Non mi era mai successo. Sei pazzi. ... Grazie a tutti.